La squadratura del foglio Tracciate le diagonali del foglio con un tratto sottile. Con il compasso fate centro all'intersezione delle diagonali e con un raggio opportuno descrivete quattro archetti. Unite i punti trovati con quattro segmenti. Se le mediane non sono richieste, la costruzione è terminata. Se occorrono anche le mediane, la costruzione è continua. Con raggio a piacere, fate centro nell'intersezione delle diagonali ed escrivete altri quattro archetti. Con lo stesso raggio, fate centro nel punto di intersezione di questi quattro archetti con le diagonali ed escrivete altri otto archetti che si incroceranno tra loro. Attraverso i punti di incrocio passano le mediane del rettangolo. Con una gomma morbida si cancellano tutte le linee di costruzione, si ripassano i lati del rettangolo e solo quando richiesto le linee mediane.